Ciao! Oggi mangio il polpo che mi ha preparato la mia mamma. Qui c'è il mio cane, che vuole anche lei il polpo. E mi rilassano sempre un sacco. Ho proprio fame. Stasera non so cosa faranno in tv, ma penso che andrò a letto presto. C'è il mio cane che mi sta fissando. Penny? A settimana? Sempre. E niente. E niente. Uneremo nel cuore. E ora, a settimana come si è ancora l'occhio di potente? Uneremo nel cuore. 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 Uneremo nel cuore anche Penny va a mukbang io mangio sempre con Penny Penny saluta tutti e dice ciao ragazzi adoro il polpo anch'io colo sono tanto alla fine il polpo è tantissimo e voi vi chiederete perché mangio un petto semplicemente perché è tardi e quindi avevano già mangiato tutti quindi mi sono messa a mangiare qui e 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 ora vi saluto e vi mando un bacio e noi ci vediamo nel prossimo video ciao